Siamo qui ad inaugurare l'opera all'interno del Comune di Campobello per questo dono che ho fatto come autore per quanto riguarda lo spettacolo meraviglioso che Francesco ha organizzato e mi ha lanciato questa idea. Ho realizzato questo perché si chiama Triade che è un'opera che rappresenta tre elementi fondamentali perché racchiude tutto il territorio visto che mi occupo io come architetto di beni culturali oltre a fare l'artista è importante rappresentare tutto quello che è il territorio e l'emergenza architettonica. Fra l'altro ho rappresentato le cose più significative dalla torre Saracena del XVI secolo, la chiesa madre, Campobello, quindi tre fontane e poi il faro del 1800. Quindi questo numero tre che se ripete un po' di rimpetto mi vedo quel quadro che abbiamo regalato nel 2015, ho donato al Comune e parla proprio del, è un trittico, è sempre il tre che se ripete la forza dell'uomo trova concretezza quando raggiunge l'unità dello scopo. Insomma il senso è quello, al di là dei simboli dei partiti in cui ho racchiuso tutti i simboli, ho racchiuso il luogo, ho racchiuso il voto del popolo eccetera, è importante essere uniti perché tante cose si realizzano con la collaborazione, con l'emozione, con l'unità di tutti perché quando ci si divide si distrugge, noi dobbiamo costruire. Ecco perché è importante con Francesco il lavoro che abbiamo fatto per cercare di valorizzare i territori. Io mi occupo di valorizzazione e di valorizzazione di tutto quello che riguarda l'emergenza, l'istituzione architettonica. Con l'arte cerchiamo di fare questo, di emozionare, di dare valore alle cose, alla storia, rappresentare tutto quello che è importante e emozionare la gente. Grazie a tutti, grazie al sindaco Castiglioni che ha accettato la mia opera per collocarlo in questo posto pubblico. Naturalmente per me è un piacere essere qui dentro il palazzo comunale di Campobello di Mazzara. Diciamo subito che dopo il grande successo che abbiamo avuto pochi giorni fa in Piazza Faurosa e semplicemente meraviglioso, siamo qui a donare questa brillante opera realizzata dall'architetto Gerry Bianco, grande artista mazzarese. Ci tengo a sottolineare grande artista perché in questi anni sta cambiando volto alla provincia. Abbiamo visto proprio una scultoria realizzata in quelle di Torretta, ne abbiamo realizzata una a Borgata Costiera e presto ne installeremo una proprio nel centro di Mazzara, del Vallo del Lungomare. Diciamo che Semplicemente Meraviglioso nasce sotto la cultura del dono. E attraverso il dono, oggi Semplicemente Meraviglioso, da consegna al comune di Campobello di Mazzara e al sindaco Giuseppe Castiglioni, come senso di gratitudine, di grandi ospedalità che proprio ha dato nell'occasione di questo meraviglioso evento, come senso di gratitudine doniamo questa opera d'arte alla città di Campobello di Mazzara. La posizioniamo qua al comune perché il comune è il palazzo comunale dove comunque il popolo può sempre venire, vedere, toccare, ogni volta lo desidera. È un museo d'arte che sta ritenendo questo comune grazie a Gerry Bianco e tanti altri artisti. Di certo è che sono convinto che non sarà l'ultima opera che sarà realizzata. Da parte nostra, se ci sarà di nuovo un'opportunità, se il sindaco lo vorrà, di realizzare di nuovo un evento semplicemente meraviglioso, sicuramente avremo altre brillanti iniziative, altre brillanti idee. Grazie, grazie al sindaco, grazie all'amministrazione, grazie al gruppo consigliare, noi ci abbiamo messo la faccia, abbiamo fatto cosa di importante nell'interesse di regalare sorrisi, ma soprattutto di regalare arte, questa arte che è la cultura e l'anima di Gerry Bianco. Ci rivediamo dentro il palazzo comunale con l'architetto Gerry Bianco, artista ormai noto nella nostra provincia e credo anche oltre le province. Campobello ha già una storia con lui perché, come diceva bene nella sua intervista, nel 2015 mi ha donato quell'opera che rappresentava l'arco costituzionale dei partiti dell'epoca. oggi magari un po' tramontato perché molte partite e molte simbole non esistono più, ma la politica va avanti e non si ferma mai. E questo quadro è esposto lì dal 2015, quindi noi teniamo molto anche alla capacità artistica dell'architetto Gerry Bianco con quest'opera che abbiamo esposto e che non l'abbiamo più tolto perché la ritengo di grande valore. Tant'è che poi mi ha portato a sceglierlo pure per realizzare l'opera scultoria a Torsetta Granitola intitolata Cialoma, in ricordo della grande tradizione della tornare di Torsetta Granitola, un'opera bellissima che è stata apprezzata da migliaia di persone quest'estate che nel frattempo venivano a villeggiare in quel di Torsetta Granitola. Oggi si aggiunge nel nostro palazzo questo meraviglioso quadro che c'è alle mie spalle e che rappresenta i simboli della nostra città, quindi la chiesa madre, il faro di Torsetta Granitola oltre che la torre normanna di Tre Fontane. Avremmo potuto aggiungere pure la torre dell'orologio ma siccome già è ben rappresentato in altre circostanze l'artista stesso ha benissimo intuito che era il caso di non ripeterlo nuovamente perché ci sono molti quadri e anche una scultura che rappresenta la torre dell'orologio che è un altro emblema della nostra città e ho voluto e ho scelto di metterlo qui nell'ingresso del paese perché chiunque potrà entrare nel nostro comune possa ammirare e sgranare gli occhi di fronte a questa meravigliosa opera che ci ha donato. Io non vennerò mai a ringraziarlo per la sua preziosa collaborazione che è iniziata nel 2015 e che si proterà ancora fino ad oggi e che si proterà già nei prossimi anni perché come dicevo quella sera a Tre Fontane ho intenzione di realizzare altre due opere almeno due, una a Tre Fontane e una a Campobello e sicuramente l'individuazione dell'artista sarà sempre verso l'architetto Giorgio Bianco. Quindi una sinergia, una collaborazione che dà molte frutte significative per la nostra città e cui io spero e conto moltissimo per un futuro di arricchimento culturale nel nostro paese in cui c'è tanto bisogno. Quindi grazie all'architetto Giorgio Bianco per la sua condivisione nell'amministrare e nell'arricchire la nostra città e il mio ringraziamento è uguale all'arricchimento alla città per la tua predisposizione ai nostri confronti. Ancora grazie e bocca al lupo per un futuro sempre più gioseo per te, per noi, per la città di Campobello e perché no per i cugini mazzarese.